Michele Guglielmi, uno dei protagonisti di questo torneo Coste del Lago di Limosano, con la tua squadra, siete un gruppo di amici, però competitivi, mi dicono. Gruppo di amici, sì, ma cerchiamo di fare il miglior risultato possibile. Siamo un gruppo di amici che ogni anno cercano di riorganizzare una squadra simile e competitiva. E cerchiamo di divertirci, però anche ottenere un buon risultato, sì, sicuramente. Poi questi tornei estivi sono anche un momento per ritrovare tanti amici, tanti avversari, tanti ex compagni con i quali poi c'è tanto rispetto. Sì, sicuramente. Con i compagni, come ti dicevo, noi siamo quasi sempre lo stesso gruppo, ma poi è bello perché tu ritrovi tanti avversari che sono stati anche compagni di spogliatoio. E quindi poi magari ti diverti in campo e fuori, sicuramente. Perché no, poi ovvio che ci sta comunque, sì, la competitività lì in campo, la competizione c'è, però poi fuori dal campo siamo tutti amici. Magari ricordi anche i bei tempi di quando giocavi con un compagno, tu come Meso puoi saperlo. Assolutamente, assolutamente. Poi, dobbiamo dire, quando chiama Davide, Romeo, insomma, amici che sono poi simpatici, sono dei veri trascinatori, è difficile dire di no. Sì, guardi, ogni anno poi magari l'età avanzano e dico ogni anno no, vabbè, basta, basta. Poi mi chiamano e ogni anno lo rifaccio il torneo, ogni anno. Puntualmente, sì, perché non puoi dire di no a loro. L'organizzazione è quella che mi diverto tantissimo qui. Allora, in bocca al lupo alla tua squadra e speriamo di ritrovarvi, perché no, alla finale del 2 agosto. Crepi il lupo e grazie, sì, faremo il nostro meglio.